Bella a tutti ragazzi, sono CMK23 e oggi siamo qua su Google Feud Dopo parecchio tempo, quasi praticamente un anno che non lo porto Quindi cominciamo subito con people, no, cominciamo stavolta con nomi Perché comincio sempre con people Ashley Young Ashley Gold Quella del banco dei pugni No, Ashley... Danvers Ashley Scott No, poi Ashley Benzo Ho scritto un bisaglio Bella Que domande Should I quit by school? No By work By heart Per cuore By heart By joe...eh vabbè... By facebook By youtube Coconut Cocco Noci Come si dice noci? Noci di cocco Ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...ehm...e Eccola lì, non c'è di cocco, coconut, coconut, no c'è di cocco, coconut, coconut oil, primo, coconut oil, water, bella, milk, milk, flour, oh, coconut, 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 butter, niente, coconut cream, crab, head, shrimp, all uses, cream, pie, aminos, questa non vale per cocco, mi spiace, nomi, Benjamin Franklin, boom bitch, get out of the way, get out of the way, boom bitch, Benjamin Stilton, ve lo ricordate il personaggio di Geronimo Stilton, Benjamin Veracruz, Benjamin Molli, Benjamin Moore, era il lico che sapeva, Island of Secrets, l'isola dei segreti, l'isola dei, l'isola of, Island of Narnia, Island of, l'isola, l'isola di Cipro, Cyprus, 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 non Cyrus, Cyprus, no, dell'avventura, dell'awai, de Sodor, e si lagga tutto, non è vero, non si è pagato, niente, names, non, Jerry, Jerry, scordi, Jerry, cara, no, Jerry, Trump, Jerry, nessuno, non conosco, Jerry, nessuno, non conosco, Jerry, Jerry, forse, look, Barbara, Streisand, Streisand, se non me la dai, ma come fai a non darmela, ma dai, ma fai a non darmela, ma dai, ma fai a schifo, Barbara Streisand, parca troia, Elizabeth II, Elizabeth Taylor, può essere, può essere, può essere, può essere, mamma mia, può essere, attenzione, Elizabeth Trump, Elizabeth L, poteva essere, era giusto, mortacci tua, Elizabeth II, era giusto, mortacci tua, Elizabeth anche prima, take your weapon, le tue armi, your house, tac, e questa ce l'abbiamo, your, 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 we eat, take your phone, phone, ira, gans, vabbè, gans, wippon, fotte sega, che se le prega, ce restano ancora un po', can you smell bad, od o di dio cattivo, no, niente, can you smell toast, no, can you smell good, food anche, vabbè, no, niente, vodka, cancro, snow, si sai di live, bello, ancora questa cosa che non so cosa sia, is for dog, eh, non mi va bene, is a, is good, is bad, niente, 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 it's healthy, it's too hard, too expensive, people, seafood, il cibo di mare, i frutti di mare, mi fanno vegetarian, no, no, vegan, vegetarian, so che non si dice vegetarian, makes me good, niente, poop, caga, caga, va bene, fart, mi fanno fare le scorreggie, billy elliot, come no, ma dai, elli, come è scritto elliot, è scritto lì, no, billy, chet, cheo, pompone, billy, nessuno di questi conosco, gun control, gun control is a film, bisogna che ci sia un film che si intitola gun control, no, is bad, si, is bad, nude, hehehe, is good, anche, ottimo, is, bah, è, pericoloso, come si dice, is low, is fast, niente, però ci sta all'abora, not idea, non è una domanda, is, raga, gun control is, raga, E una stronzata, quando è il prossimo car show, il prossimo salone, quando è il prossimo il prossimo concerto, la prossima nuova luna, il prossimo anno bisestile, io ho fallito a school, sicuro, no, non c'è ad maths, no, ho fallito ad love, ho fallito in amore, non c'è, porca, lularoe, a life, giusto, mi ero dimenticato life, oddio, question, can you milk, poi latte, a chocolate, a girl, a baby, niente, a man, a pig, a sheep, a camel, a horse, che cazzo è? Google feed ok, UK, cos'è questa cosa? Ma andava tutto bene, ragazzo, perché vi devi fare questo? Google feed, fa schifo, fa schifo, bene, proviamo a fare un altro, stavo a colonna che è detto sia stato Google America, questo invece, ah, ma è sempre lo stesso, ma è sempre lo stesso, me l'ha semplicemente abbassato, mi si era, ma che cazzo, e tu un tu gullo feed classic, il tuo nome è un anormale, grazie, anormale mi devi tornare schifoso, aspetta, aspetta, inglese, non lo so magari è più semplice perché l'americano è un po' più complicato rispetto all'inglese people quindi siamo qua in google field UK perché questo deve essere in inglese e dai forza di quella vacca porca di quella vacca dai 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 non ce la possiamo fare non ce la possiamo fare non ce la possiamo fare non abbiamo tutto il giorno io da 3 minuti, da 2 minuti dovrei concludere ma ste caro computer google field ce la puoi fare vabbè questo nuovo episodio dopo parecchio tempo di google field finisce qui ma state tranquilli che ritorneremo con i video su bc quindi ci vediamo al prossimo video con l'hashtag in descrizione che adesso vi metteremo ci vediamo al prossimo video bella bella Grazie a tutti.